Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Letizia Moratti, vicepresidente della regione Lombardia e assessore al welfare ex sindaca di Milano e candidata, vedremo a che cosa nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Benvenuta, buonasera Beppe Severnini, editorialista del Corriere della Sera, buonasera Massimo Giannini, direttore della Stampa, buonasera Lucio Caracciolo, direttore di Limes. Come sapete mancano dieci giorni alle elezioni politiche dall'Europa e dagli Stati Uniti, arrivano due grandi sfide per il centrodestra che probabilmente governerà questo Paese, subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti. Letizia Moratti, comincio con questi presunti finanziamenti russi a partiti e paesi anche europei. Allora domani al Copasir verrà audito il capo dei servizi segreti a Palazzo Chigi, Franco Gabrielli, che dovrà chiarire una serie di cose, immaginiamo. Di sicuro anche oggi Salvini per esempio ha detto quattro anni di accuse, mai preso soldi da Mosca. Insomma tutti i leader del centrodestra hanno cercato di chiarire le loro eventuali posizioni e tutti i leader politici chiedono trasparenza su questa questione e tutti negano di avere alcun coinvolgimento. Lei che idea si è fatta di questa storia? Io credo che le rivelazioni che provengono non certamente da scoop giornalistici ma da segretario di Stato americano sono indubbiamente estremamente allarmanti. L'Italia poi è paese fondatore dell'Alleanza Atlantica e dell'Europa quindi sarebbe gravissimo un coinvolgimento di esponenti politici italiani. D'altra parte, come ha detto lei, domani c'è una riunione del COPASIR quindi credo che sia prematuro e non corretto istituzionalmente anticipare giudizi senza una conoscenza diretta e precisa dei fatti. Massimo Giannini, chi deve fare chiarezza su questa vicenda? L'amministrazione americana, il governo italiano, alcuni leader politici italiani, chi? Nel migliore dei mondi possibili la chiarezza la dovrebbe fare la Russia di Putin, spiegare chi come quando ha finanziato partiti o movimenti a lei vicini per sabotare le democrazie occidentali. Naturalmente siamo in un mondo che non è il migliore di quelli possibili e quindi tocca all'Occidente fare quello, se è in grado di farlo, che la Russia non sa fare. Quindi il primo chiarimento io penso che dovrebbe arrivare dagli Stati Uniti perché a me personalmente da cittadino, per quanto io sia convinto che Putin sia un criminale e che quella sporca guerra in Ucraina sta facendo vittime tra i civili e per quanto io pensi che la Russia sia una dittatura o una democratura come viene considerata, beh faccio fatica a immaginare che l'America se la possa cavare buttando lì un documento o facendo qualche telefonata in qualche... Cioè deve fare nomi e cognomi? Insomma io penso che, io credo, spero che il segretario Blinken con Mario Draghi abbia parlato un linguaggio chiaro e mi aspetto quindi che domani, visto che c'è un Consiglio dei Ministri al termine del quale Mario Draghi farà una conferenza stampa, visto che ci sarà il capo dei nostri servizi segreti Gabrielli Audito Alcopasir, se c'è qualcosa di concreto che venga fuori in quelle sede e che noi dobbiamo saperlo perché altrimenti diventa un'ingerenza al contrario rispetto alle nostre elezioni. Lucio Carasciolo, appunto molti hanno scritto che l'amministrazione americana ha dato una sorta di avvertimento ad alcuni leader e partiti politici in Italia, soprattutto a quelli del centrodestra, che sono dati in testa per le prossime elezioni politiche. Qual è l'obiettivo di Washington? Ma io non credo che si possa entrare nello specifico, visto che non abbiamo nessun documento, cioè stiamo ragionando su delle ipotesi. Certo che la Russia o qualsiasi altra potenza finanzi dei partiti o degli amici presunti in altri paesi, fa parte della storia del mondo da quando esiste il mondo. Ai tempi della prima Repubblica Mosca finanziava i comunisti e l'unica questione che veramente preoccupava gli americani è se per caso usasse dei dollari falsi per far circolare questo finanziamento. Non so se Salvini o chi per lui sia stato pagato i rubli, ma non credo. Comunque siamo in una fase ancora molto nebulosa e francamente non credo che l'America abbia voglia di entrare troppo nel merito delle nostre elezioni, c'è tanti di quei problemi. Quello che interessa l'America è che ci sia un governo stabile e semmai quello che sta facendo in questa fase l'America è quella di creare intorno al prossimo governo di centrodestra, perché questo sarà un qualche sostegno da parte delle tecnostrutture italiane, dei politici più esperti per evitare di fare troppe cattive figure, non perché siano persone incapaci, ma perché sono persone che non hanno mai governato. Beppe Severnini, tu conosci bene le ingerenze russe nei processi elettorali delle nostre democrazie. Questo dossier, per quel che ne sappiamo finora, che cosa aggiunge? Aggiunge confusione. Mi sembra che siamo tutti d'accordo, tutti e quattro su questo punto. E quindi io credo che i nostri alleati americani abbiano il dovere, prima o poi, meglio prima, di dire cosa sanno. Invece abbiamo bisogno di chiarezza naturalmente, perché in questo momento è fondamentale. Voglio aggiungere però una cosa che magari sorprenderà qualcuno. Se si scoprisse che, mettiamo quali sono i tre partiti che possono essere in qualche modo sotto la lente, sono Forza Italia, ma i rapporti erano personali, Forza Italia non ha bisogno della mancia della Russia, parliamoci chiaro. Sono invece soprattutto la Lega e il Movimento 5 Stelle, che hanno detto e fatto cose in questi anni proprio piuttosto sorprendenti. Se si scoprisse, ripeto, congiuntivo, periodo ipotetico, non correlatemi, se si scoprisse che sono coinvolti, voi credete veramente che farebbe una grandissima differenza in queste elezioni? Io sono convinto che ormai la gente voti per simpatia, antipatia, per il leader di pancia, per rivalse. Io arrivo a credere, e non è una cosa bella che sto dicendo, ma io sono convinto che neppure una eventuale rivelazione farebbe una gran differenza a questo punto. Letizia Moratti è d'accordo e le voglio chiedere, poi dopo arrivo anche all'altro tema che irrompe oggi nella campagna elettorale. Lei si fida di Giorgia Meloni che ha detto di essere pronta a governare l'Italia? Io credo che chi si candida a governare l'Italia debba essere fedele ai valori, ai principi dell'alleanza atlantica dell'Unione Europea. Credo che chi si candida a governare l'Italia auspico, lo faccia impostando il proprio lavoro nel solco del metodo Draghi, un metodo che ci ha consentito in un periodo difficilissimo di mettere in cantiere riforme importanti, urgenti, importanti per il nostro Paese, con una grande autorevolezza e dando anche un contributo al dibattito politico europeo. Ma quindi è pronta Giorgia Meloni o no? Per quanto riguarda Giorgia Meloni, ma guarda io credo che Giorgia Meloni sia una persona leale, una persona onesta, una persona coerente, una persona che si prepara, che studia, una persona pragmatica, una donna. Anche se indubbiamente io ho una cultura e delle sensibilità diverse. Ma è anche una europeista? Ultimamente, e non si è mai smentita, ha sempre dichiarato la propria lealtà all'Unione Europea. Aspetti, scusi dottoressa Moratti, la interrompo solo un secondo perché in realtà oggi si è smentita lei e il suo partito Fratelli d'Italia perché al Parlamento Europeo i suoi parlamentari e anche quelli della Lega hanno votato contro il rapporto che condanna l'Ungheria di Orban per continue violazioni dello Stato di diritto che, come sappiamo, è il pilastro della nostra democrazia. E allora è rassicurante questo sul fronte Giorgia Meloni? Mica tanto? Ma io, ripeto, credo che la lealtà nei confronti dei principi fondanti dell'Unione Europea sia un presupposto per poter governare. Credo che la lealtà significhi anche, come dire, essere parte di un partito che è il Partito Conservatore che vede posizioni diverse all'interno dell'Unione rispetto al Partito Popolare o al Partito Socialista. Quindi ci sono sensibilità diverse anche all'interno dell'Europa. Io personalmente credo che i diritti siano un tema che sempre di più dovrebbe entrare in questa campagna, non solo in questa campagna elettorale, ma in questa visione di un mondo che cambia e che ha bisogno di avere sempre di più riconosciuti diritti. Guardiamo per esempio al tema della guerra in Ucraina. Ecco, io credo che uno dei motivi che ha portato a questa guerra è stato proprio il fatto di non riconoscere il diritto dell'Ucraina a governare il proprio territorio, i propri cittadini. Quindi questo tema dei diritti è giusta la sua osservazione, è un tema importante, è un tema che non può essere sottovalutato, ma ripeto, comunque all'interno dell'Unione Europea ci sono sensibilità diverse e di questo non si può non tener conto. E cosa vuol dire non si può non tenerne conto Massimo Giannini? Non lo so, io quello che vedo è che sì, Giorgia Meloni è sicuramente europeista. Bisogna internersi su che cosa significa per lei Europa, perché un conto è l'Europa delle famiglie tradizionali che abbiamo conosciuto, con tutte le difficoltà che l'Europa incontra in questa fase, intendiamoci deflagrate con la guerra, lo vediamo su quanto è difficile fissare questo benedetto tetto al prezzo del gas, non c'è accordo perché l'Europa è divisa, però appunto sui principi fondanti sta venendo in campo un nuovo tipo di Europa il cui capofila è proprio Viktor Orban e la sua Ungheria e tutti i paesi del patto di Visegrad, che è un'Europa completamente diversa da quella che noi abbiamo conosciuto in questi anni o decenni, con tutti i limiti che quell'Europa aveva. Ecco, Giorgia Meloni sta facendo un'eccellente campagna elettorale, ma è caratterizzata da una doppiezza che potremmo definire togliattiana per alcuni versi, perché quando parla ai suoi continua a parlare il linguaggio di Vox, il partito neofranchista di fronte al quale ha fatto un discorso che è rimasto storico, famoso, Dio, Patria, Famiglia, tutti i valori che abbiamo conosciuto e sono coerenti con la sua storia. Quando si rivolge all'establishment europeo e internazionale tende invece a rappresentare il suo partito come una forza pienamente europeista, atlantista, che ormai ha rotto i suoi legami col passato, ha fatto oggi un'intervista al New York Times dove fa una sorta di abbiura. Queste però sono le chiacchiere. Poi contano i fatti. Un fatto è che oggi la Lega e Fratelli d'Italia hanno votato contro la sanzione all'Ungheria, che domenica sarà approvata anche ai livelli europei più elevati. Questo è un fatto, le altre sono chiacchiere. Quindi quale Europa vuole la Meloni? Non l'ho ancora capito. Sono in tante e ancora non averlo capito. Dottoressa Moratti, le voglio chiedere, lei si identifica con Dio, Patria e Famiglia, che è lo slogan forte di Giorgia Meloni e del suo partito e non solo di Giorgia Meloni? Io mi identifico sicuramente con il concetto di famiglia, con il concetto di patria. Mi identifico però anche con il concetto dei diritti fondamentali che, ripeto, sono diritti che non possono essere, che devono essere presi in considerazione. Quindi per lei, mi scusi, dottoressa Moratti, per capirci, per lei esistono anche, non esiste solo la famiglia fatta da un uomo o da una donna. Oggi, come sappiamo, ci sono molti tipi di famiglie, no? Ma certo. Allora, la nostra società sta cambiando e quindi cambia anche in relazione a diritti che fino a ieri non sempre erano considerati e che ora devono essere considerati. Quindi le forze politiche devono prendere in considerazione anche i cambiamenti della società e rispetto ai cambiamenti della società anche diritti che fino a prima non erano negati. Quindi mi identifico con questa visione, quindi mi identifico con una visione di Europa che prende in considerazione i diritti, i diritti allargati naturalmente. Parliamo di diritti allargati, chiedo a Severnini e anche a Lucio Caracciolo quando parliamo appunto di paesi come, non è che ce l'abbiamo con l'Ungheria di Orban ovviamente, ma siccome che cos'è l'Ungheria di Orban? Vogliamo spiegarlo in due parole Lucio Caracciolo perché se no non ci capiamo. È un paese che faceva parte del blocco sovietico, adesso è guidato da una forza e da un leader molto nazionalista che pensa che l'Ungheria debba recuperare territori nei paesi vicini che ne sono stati sottratti dopo la prima guerra mondiale. Orban ha ottimi rapporti con Putin, Orban ha gli stessi valori diciamo nazional, patriottici e anche la sua idea di famiglia ovviamente della Meloni, quindi è perfettamente normale che la Meloni e Orban si trovino abbastanza allineati. Ma d'altronde è un vento che gira un po' in questa fase, un po' in tutta Europa, abbiamo visto le elezioni svezia, ha vinto la destra radicale, qui vincerà una destra probabilmente meno radicale ma vincerà quella, quindi insomma non c'è nulla di particolarmente strano. Quello che noi non vogliamo capire è che quei paesi dell'est sono in una fase che potremo paragonare al nostro risorgimento, cioè escono da dittatura nazista, dittatura sovietica e la prima cosa che vogliono è essere indipendenti e quindi pensano che siamo noi che siamo in difetto, non loro. Siccome prendono più soldi dall'Europa di quanti ne versino, Beppe Severnini, se si sta in una comunità, lo ricordava prima anche la dottoressa Moratti, bisogna osservare delle regole, se ognuno si fa le sue, l'ipernazionalismo mal si concilia con un'idea di Unione Europea che sia più aperta, più inclusiva. Severnini? No, certo, avevo chiesto appunto di intervenire per dire questo, che è evidente che Orban non può fare tutto quello che vuole, tra l'altro una cosa, io pensate che Orban, quando eravamo, siamo coetanei credo, l'avevo conosciuto e lui era nella Fidesz quando c'è stata la rivoluzione in Ungheria, alla fine del comunismo, lui era un giovane liberale progressista, poi è molto cambiato, devo dire. A proposito di diritti, certo che l'Ungheria non può fare quello che vuole e anche Giorgia Meloni non può usare quei toni, allora Dio, patria e famiglia, io sono credente, amo molto il mio paese, sono sposato con Ortenzio da 36 anni, ma allora io potrei dire Dio, patria e famiglia mi vanno bene, ma se urlo Dio puntando il dito contro qualcuno che non crede, se io grido famiglia dicendo che l'unica famiglia è quella che io ho costruito, se dico patria vuol dire la mia e tutte le altre non vanno bene, quindi dipende come, lei da Vox ed eravamo in studio a otto e mezzo, Lilli ti ricordi, quel giorno eravamo tutti basiti, perché non sono le tre parole, le tre parole vanno bene, dipende come le traduci e con che tono e con che sguardo le dici e quelli di Giorgia Meloni spesso e volentieri erano il tono e lo sguardo sbagliato, se l'ha cambiato, bene, io non sono del tutto tranquillo, lo confesso. Posso fare una somma delle cose che hanno detto Beppe e Lucio, allora se è vero che, come dice Lucio e secondo me è corretto alla luce di quello che stiamo vedendo e del voto di oggi, Meloni è assolutamente coerente nel momento in cui appoggia la linea di Orban e difende Orban rispetto all'iniziativa del Parlamento di Strasburgo e se è vero quello che dice anche Beppe Servernini che conta anche il modo con cui i tuoi valori, certi tuoi valori che sono ampiamente e largamente condivisibili anche da una fascia elettorale diversa da quella di Giorgia Meloni, sommiamo le due cose, l'Ungheria di Orban ha applicato modifiche alla Costituzione che limitano la libertà dei giudici per esempio in termini di giurisdizione e di bilanciamento dei poteri con l'esecutivo, ha introdotto norme che limitano la libertà di stampa per cui se scrivi cose che cozzano contro l'interesse nazionale, nessuno sa che cos'è, lo disciplina soltanto lui medesimo, che cos'è l'interesse nazionale, subisci sanzioni e limitazioni, ha ridotto la libertà delle famiglie non tradizionali, i gay, gli omosessuali, libertà religiosa, ha limitato anche quella, ieri ha annunciato una legge sulla base della quale vuol far sì che le donne che stanno per abortire sono obbligate ad ascoltare attraverso l'ecografia il battito del feto, il battito del cuore del feto. Ora, se la Meloni appunto è coerente con tutto questo, io mi preoccupo un po' sinceramente da cittadino, al di là della destra e della sinistra, ma qui parliamo dei diritti fondamentali, allora su questo io dalla Meloni vorrei delle risposte precise che finora non ha dato, se non attraverso quel doppio registro di cui parlavo prima. Però c'è anche da considerare, primo, che il Parlamento europeo non conta niente, in secondo luogo che in Europa ci sono molto spesso, diciamo, pesi e misure diverse, per esempio, prima della guerra la Polonia era sotto accusa, molto più dell'Ungheria di Orban, dopo la guerra ci siamo dimenticati di che cos'è il governo polacco. Resta il fatto che in Polonia una serie di diritti non vengono rispettati, siccome la Polonia è un paese fondamentale per la Nato in questa fase, evidentemente la si tratta in un altro modo. Va bene, noi, dottoressa Moratti, speriamo nel nostro paese che non facciamo passi indietro su tutto il fronte dei diritti, i diritti civili. No, speriamo di avere tutte le rassicurazioni necessarie, certo, assolutamente sì, è giusto avere tutte le rassicurazioni necessarie rispettate. Ma finora le abbiamo avute, questa è la domanda, i diritti fondamentali. Ho detto speriamo di averle. Quindi non le abbiamo avute, va bene. Quindi non le abbiamo ancora avute. Ci auguriamo di averle. Senta, dottoressa Moratti, diciamo anche sul fronte del... Io lo chiedo a lei perché lei conosce bene il centro-destra, perché è stata votata dal centro-destra, è stata chiamata a sindaco di Milano, poi ha fatto il ministro, insomma lei ha una lunga esperienza, sempre, non so se dire, da tecnico-politico, insomma, diciamo e imprenditrice, perché lei poi è anche un'imprenditrice. Salvini, continua a dire a Giorgia Meloni, l'ha anche detto oggi, di fare questo scostamento di bilancio di 30 miliardi di euro per aiutare chi non ce la fa pagare le bollette del gas e la Meloni dice no, andiamoci cauti, prudenti, perché bisogna controllare i conti. Ora, chi dei due ha ragione, secondo lei, e vede questo centro-destra che vorrebbe governare l'Italia coeso abbastanza? Guardi, rispetto allo scostamento di bilancio che chiede Salvini, credo lo chieda in maniera particolare per pagare le bollette energetiche, quindi Giorgia Meloni propone una metodologia diversa, quindi propone di disaccoppiare il tema del prezzo del gas dalle altre fonti, quindi personalmente credo che un paese indebitato come il nostro debba avere una politica prudente. aggiungo che dispiace naturalmente il fatto che un governo che aveva come primo ministro il presidente Draghi, che ha fatto una battaglia e continua a fare una battaglia importante a livello europeo sul tema del tetto del gas, perché è ovvio che questo è un tema che o è risolto a livello europeo o non può essere risolto a livello nazionale, dispiace ovviamente che questa azione politica così importante purtroppo sia venuta meno con la caduta del governo Draghi. Per quanto riguarda, tornando alla sua domanda, io credo che sia come dire, una politica più prudente sia la politica giusta in questo momento. Presidente, dottoressa Morati, ma lei si definirebbe ancora di centro-destra o è solo di centro? Io credo che le definizioni così schematiche siano superate. Io mi riconosco in una in valori che sono, mi auguro, dei valori che sempre di più dovrebbero trovare spazio anche nel dibattito politico. Quindi io credo che noi stiamo vivendo un momento molto difficile e molto complicato con costi enormi che abbiamo sostenuto per via della pandemia, per via della guerra, per via della crisi energetica, per via dei cambiamenti climatici. Quindi viviamo un momento di trasformazione che coinvolge anche le forze politiche. Quindi credo che si debbano superare queste schematizzazioni e si debba cercare di capire come la politica debba trovare degli strumenti, delle modalità per capire quali sono le esigenze e dare delle risposte concrete da un lato ma anche di lungo periodo dall'altro, perché questo è anche uno dei problemi che normalmente la politica ha di concentrarsi purtroppo anche perché i nostri governi sono sempre molto brevi. Aspetti che voglio fare intervenire Beppe Severnini e poi anche gli altri, perché Letizia Letizia Moratti, siccome siete entrambi i lombardi, sta giocando una partita politica nel momento in cui si è detta disponibile a candidarsi, a essere candidata per la presidenza della regione Lombardia il prossimo anno. La Lega di Salvini però non la vuole. Quindi come saranno Calendare, Enzi, Sala, che la sosterranno? Poi lo chiediamo naturalmente anche alla diretta interessata. Allora, io dico quello che immagino e sicuramente verrò smentito o magari confermato. Allora, secondo me Letizia Moratti sta aspettando che dopo le elezioni Salvini non abbia più il potere di dire di no e di imporre la riconferma del governatore Fontana. Quindi se lui prende va male alle elezioni, c'è poco da fare. Credo che noi dovremmo scegliere fra candidato Letizia Moratti che abbiamo qui con noi e un candidato di centrosinistra. Questa è la prima ipotesi. La seconda credo che le abbiano offerto, sono convinto, il Ministero della Salute, ma credo che la dottoressa Moratti sia una donna di mondo e sappia che certe promesse vanno prese con le pinze. La vedo così. Certo che se la deludessero e lei si candidasse col terzo polo in Lombardia sarebbe improvvisamente interessante perché ci sono tre forze, la destra diciamo, il terzo polo con Letizia Moratti che diventa forte e il centrosinistra e a quel punto è tutto aperto. Sto fantasticando? Allora, dottoressa Moratti, lei che cosa pensa accadrà del suo destino politico, personale, professionale? Allora intanto è vero che le hanno chiesto di fare il Ministro del futuro governo, quello che uscirà dopo le elezioni del 25 settembre, no? No, non ho avuto offerte che riguardano Ministeri, ma se le dovessi ricevere ringrazierei, naturalmente sarei onorata, ma direi di no. Io sono concentrata direi di no, quindi sono concentrata sulla mia regione. Ho dato la mia disponibilità a candidarmi per la mia regione, penso e spero di portare un valore aggiunto e quindi sono in questo momento concentrata su questo. Ma con chi si candiderà? Perché questo è il punto. Io credo che per rispetto agli elettori, per rispetto ai partiti sia in questo momento prematuro parlare di elezioni regionali, quindi in questo momento è necessario, è giusto, è corretto lasciare che gli elettori esprimano le loro preferenze rispetto alle elezioni nazionali, le elezioni regionali vengono dopo, quindi non creiamo confusione, abbiamo già abbastanza confusione, come direi, su tanti temi, è stato ricordato e detto anche da chi è in studio con lei, quindi aspettiamo, vediamo che uscirà dalle urne. E quindi deve tornare dopo le elezioni a 8 e mezzo, questo è sicuro, che così capiremo meglio. Se è un invito, Lilli, la ringrazio assolutamente, come sempre volentieri, da lei è sempre molto stimolante, quindi molto volentieri. Bene, allora ce l'ha un invito aperto dopo le elezioni e Lucio Caracciolo, qui invece abbiamo un invito aperto per comprare il nuovo numero di Limes che troveremo dopo domani, sabato, che si intitola Il mare italiano e la guerra e tu lo presenterai a Trieste. La guerra in Ucraina sarà ancora lunga e rischia di rendere molto pericoloso il mare italiano? La guerra in Ucraina sarà molto lunga, la Russia ha buscato una severa sberla con la cosiddetta controoffensiva Ucraina, Putin potrebbe a un certo punto decidere che questa è una guerra e non semplicemente un'operazione militare speciale, quindi rincalare la dose. Quanto a noi, il mare intorno a noi è quello da cui dipendiamo, cioè l'Italia è quasi un'isola senza materie prime che vive per esportare, se il mare intorno a noi va fuori registro è un grosso problema e di questo ci occuperemo a Trieste domenica e lunedì sul tema appunto Il mare italiano e la guerra. Allora vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché non solo la guerra è scomparsa dal dibattito elettorale ma anche molti altri temi che sarebbero molto importanti. Guardate. Non è candidato alle elezioni ma presenta in questi giorni anche in Italia il proprio programma il filosofo e sociologo Edgar Morin che pur avendo compiuto in luglio 101 anni continua a distinguersi per la freschezza del pensiero. In un librino di 80 pagine intitolato Svegliamoci, pubblicato dall'editore Mimesis, Morin elenca i pilastri di una possibile politica diversa. Una politica dell'energia che privilegi i rinnovabili, una politica dell'acqua che disinquini fiumi, laghi e oceani, una politica della città che favorisca zone pedonali, trasporti pubblici elettrici e sviluppi quartieri ecologici conviviali, una politica delle campagne che faccia regredire l'agricoltura industriale, che rende sterili i terreni e standardizza prodotti poveri di vitamine, insipidi e pieni di pesticidi. Una politica economica che assicuri una regressione costante dell'onnipotenza del profitto. Una politica dell'istruzione che dia nuovo impulso alla laicità e restituisca agli insegnanti la loro grande missione umanista. Una politica di riforma dello Stato che lo sburocratizzi e lo liberi dall'assedio delle lobby private parassitarie. Una politica di riconoscimento della piena umanità dell'altro. Non possiamo eliminare il dispiacere e la morte, ma possiamo aspirare a un progresso nelle relazioni tra esseri umani, individui, gruppi, etnie e nazioni, conclude Morin, convinto che rinunciare al migliore dei mondi non significhi affatto rinunciare a un mondo migliore.